Buongiorno Vincenzo Longo a G.I. Milano, ci aspettiamo un'apertura poco sopra la perità questo pomeriggio a Wall Street in scia con l'andamento positivo delle borse europee. Gli investitori sembrano festeggiare il raggiunto accordo ieri sera a Bruxelles tra la Troica e i ministri di finanza dell'area Euro nei confronti della Grecia. Più tempo sostanzialmente è stato concesso ad Atene e misure finanziarie meno stringenti affinché appunto il paese possa riportare in ordine i conti. Rimane però un certo velo di scetticismo sulla capacità effettiva del paese di raggiungere questi target entro il 2020 e soprattutto rimangono perplessità sulle capacità di crescita che il paese potrebbe avere. La perdita di competitività infatti non sarà facile da recuperare da parte del paese ellenico che rimane comunque soggetto a notevoli proteste interne, quindi disordini sociali che certo non favoriscono il clima interno del paese. Per quanto riguarda il fronte valutario, il loro dollaro dopo un tentativo dell'attacco alla soglia dell'1,30 questa mattina ha avvirato il negativo sulle previsioni rilasciate dall'Ox sull'intera area Euro e sull'Italia in particolare e il cross scambia ora in area 1,29,50 a livello che se dovesse essere rotto potrebbe portare rigadute verso in area 1,29, 1,28,80 che rimane l'ultimo baluardo a difesa appunto del rimbalzo attuato da metà novembre in poi. Sul fronte macro, attenzione sui dati statunitense del pomeriggio, come dicevo saranno rilasciate le figure sugli ordini di beni durevoli relativi al mese di ottobre, saranno rilasciati anche i dati sulla fiducia dei consumatori, due elementi chiave che potrebbero in qualche modo impattare poi sull'andamento degli indici borsistici nel corso del pomeriggio e nel caso di disattese abbastanza importanti potrebbero indurre anche ad un'inversione di tendenza. di tendenza. Per quanto riguarda il fronte governativo, aste su CTZ italiane sono andate particolarmente bene, rendimenti ai minimi da fine ottobre del 2010 con una domanda che è rimasta comunque sostenuta. Domani ricordiamo che il Tesoro andrà in asta con bot a sei mesi, mentre giovedì ci saranno BTP a medio-lungo termine, saranno un po' l'evento più importante della settimana. Sono andati in asta questa mattina anche titoli di Stato a brevissimo termine spagnoli, anche qui rendimenti ancora in lieve calo rispetto alle aste precedenti con una domanda che è rimasta comunque sostenuta. Il mercato governativo sarà particolarmente affollato questa settimana e questo potrebbe inficiare un po' sulla domanda poi giovedì dei BTP. Sul fronte commodities, stabili sia oro e petrolio sui livelli di chiusura di ieri. Per oggi è tutto, per tutte le altre notizie, seguiteci sul nostro canale Twitter, IG underscore Italia underscore. Buona giornata e buon trading.